Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sono code in entrambe le direzioni tra la Strassigna e Firenze e Scandicci per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per lavori al manto stradale in via Spontini di vieti di sosta e di transito a tratti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!